Il primo, che è più piccolino, ha cinque anni, anche se già ha una notevole esperienza perché questo è il suo secondo saggio, infatti l'anno scorso si è sentito per la prima volta proprio qui e aveva tre anni e mezzo, quasi quattro. Questa sera sarà da solo, l'anno scorso c'era la mia presenza a suo fianco, questa sera è cresciuto è già pronto per esibirsi in un brano di difficoltà tecnica molto elevata al pianoforte solo io accoglierei con un grandissimo applauso Luca Rampino! Grazie a tutti! Bravissimo Luca!